Con il componente sondaggi vuoi ascoltare l'opinione dei visitatori del tuo sito. Per aggiungere il componente sondaggi, clicca a sinistra sulla barra degli elementi. Clicca su Contatti, vai su Sondaggi e trascina il componente nell'area di lavoro. Per creare il tuo primo sondaggio, clicca su Crea il tuo primo sondaggio e clicca su Nuovo sondaggio. Dai un titolo al tuo sondaggio e scegli se ciascun utente può rispondere al sondaggio solo una volta o più volte. Aggiungi una domanda al sondaggio e seleziona la tipologia di risposta e se renderla più o meno obbligatoria. Clicca su Nuova domanda per aggiungere una nuova domanda al sondaggio e su Nuova sezione per aggiungere una nuova sezione al sondaggio. Clicca su Salva per salvare le modifiche. Per pubblicare il sondaggio, clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse. Clicca sull'icona Seleziona sondaggio e dal menu a tendina seleziona il sondaggio da mostrare. Per personalizzare il componente sondaggio, clicca sull'icona Testo e modifica lo stile del titolo, delle domande, delle risposte e dei pulsanti. Clicca sull'icona Colore per modificare il colore dello sfondo e il colore dei pulsanti. Clicca su Bordi per cambiare il colore del bordo dei campi e quello dei pulsanti. Clicca sulle impostazioni avanzate per mostrare e scrivere il messaggio di feedback all'invio del sondaggio. Per indirizzare l'utente a una pagina specifica all'invio del sondaggio. Per indirizzare l'utente a una pagina specifica all'invio del sondaggio.